Sai cosa farei io se non volete andare subito su Rainbow? Quel giochino che avevamo fatto con gli altri junkie Party Party Time, tipo si chiamava? Non so che cazzo sia, raga. Ve lo devo stare io, è un giochino bastardo pieno di cose che mi ha fatto tiltare l'ultima volta. E mo' lo che dice, ha due pad? Ma perché non vi hai comprato un pad dell'Xbox, che è proprio l'attacchio e va sempre, tanto ci giocate sempre. Perché non compri una parrucca? Oh, mazzo. Ma adesso sono diventato il due, raga. Eh, allora prendi il rosso. Dieci giochini. Metti tutto casuale. Fill the cup with the blue or letting off... Nooo. Oddio, che non fa? Allora, tocca al giallo adesso. Devi mettere l'acqua senza far sì che si riempa totalmente la cosa. Dove ti fa? Che so. Porca troia. Sono stato buono, eh? Trocca a te maestro. Oggi ho molta sete. Glug 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 glug. Ma io non ho fatto la merda, è un bastardo che sei, oh! Mi sa che c'è tanta acqua. Ah, è certo, io sono ultimo. Eh ragazzi, io perdo. No, ma che dito? Eh ragazzi, era pieno. Eh vabbè, ma sono cose che capirano, cioè. Basta, basta! Adesso sei come un bambino stupido sei. Pezzo di merda. Comprati un altro amico. Guarda, sai che ti dico? Tu ti muoviti tanta acqua. Ragazzi, tocca al me, porco Dio. No, tocca al maestro. Tocca al me. Pezzo di merda. Sei lo spiritoso adesso, faccia di merda. Io sta, vincerò a dubbio. Poco qua, po' tocca al sura oggi. Poca al sura? però è il gioco del biscotto è il figlio del puttana vabbè dai sei proprio un pezzo del merda quindi muoio hanno vinto due però master di rodeo che devo fare che bisogna fare ma sempre con la oh no regà non ho capito ma regà ma non c'ho i tasti dell'xbox io ma io tieno anche la freccetta devo mettere ma porco ragazzi lo fa io non so dove è la x nell'xbox è il quadrato no vabbè dai zero punti zero punti no ho sbagliato no ho sbagliato come ho fatto uno no regà ma la b non è gialla no regà perché è rosso ce l'ho rossa dai non si capisce oh primo non sono arrivato let's go let's go parco dio dai the switch at the right time oddio con la levetta giù oh no ho tagliato una boccia roccia regà sono gay sono nello schermo ma non mi state neanche una perché non vi inficcate regà ma chi cazzo è il giallo che è il fruit ninja sono il giallo vabbè roti quanto cosa sto gioco junkie oh neuro e lo fai con mollo run from the monster non so cosa sia move dash no ma il monster sono io ok dobbiamo scappare da junkie vero che c'è una stamina vieni sono zucu mostro sono zucu mostro no non vale che è successo al zucu mostro oh faccio rukaz eh vabbè dai ma la stamina finisce no pezzi di merda mi odio uccide il maestro non se l'è caccato nessuno ah no ma sono scappato da uno che non c'entra no no porto dio dio santissimo vabbè dai ma dopo ho vinto 5.900 pill del balloon suite no ragazzi non si può no non li so i tasti mi sa che bisogna spammare raga perché non me la prende allora non so come mi raga mi sa che ho fatto cacare non so cosa ho fatto ah ho fatto cioè ma donna marzo e andiamo porco dio mi hai spagnati tutti no ragazzi mi sono fatto tutto il gioco guardando qualcun altro non ho visto cosa bisogna fare ma tu ma io stavo continuando a tirarli sullo stesso coso ma sono un pesce eh pure io ma anche io ma no ragazzi mi lacchia troppo ma ragazzi ma sono un pesce cioè non è possibile no te ne ho vinto ma l'ho vinto comunque ma donna non ho fatto una sega che devo fa' no qui li devi spostare oh madonna gioco di calcoli ma vi seguo aspetti ma chi è il 23 ragazzi anch'io mi sono l'incoglionito totalmente madonna mi deve dare il cazzo di coso sul mio nome ragazzi tattica 27-11 bomba che è 50 ah ho fatto per ultimo oh non me lo sape i picchi no ragazzi io non lo sto neanche leggendo vi seguo e fa' ok no ragazzi no regà oh e non mi andavo più a sinistra ma come era paleolitici ma porco dio che prima è stata a città no no non poteva essere questo ragazzi vostri come avete seguito era troppo difficile per il mio piccolo cervello fare un po' di matematica che bisogna fa' devi rompere i più blocchi possibili non chiedermi come e come si rompe rica no e dammi un po' quel blocco lì ah ma ti potete direi dopo un figlio di puttana cioè veramente mi fai schifo poi ti grifo tutto no dammi quello che pezzo di merda che pezzaccio di merda sono gay non ci credo non ci credo sei l'uomo di merda sei bello eh tutto il tempo bloccato dal maestro che mi rubava i blocchi e mi li metteva nei posti sbagliati ingiustizia qua eh tu sei un incoglionito siete morti io non sono capace a fare questo neanche io no ragazzi sono un coglione in questi me li davano sempre tipo hearle queste cose no se non me li incoglionisco subito ragazzi lo posso fare ma ragazzi ma non vedo che cosa devo muovere no top 3 gay abbia mai succhiato ragazzi lo capisci che io sono etero io queste cose non le ho mai fatte io schiavizzavo le persone per farmele marzo marzo se continui altri 5 minuti mettono la clip nei top autistic ma a district moments ma poi io non capisco neanche l'immagine ma dove devono andare le cose no ragazzi no ragazzi che schifo di merda porco dio don't all survive oioioi ma raga è pacifico chi mi prende ma maestro no sono capito dai vedi sto stronzo ah hai perso di merda arriva tu sei conto va benissimo sono spud guarda ma io ho perso i punti per quel gioco del cazzo la Grazie a tutti.